Allora oggi è 26 giugno 2011 0806 il comandante Salvatore e il marinario marino lasciano il porto di Salemme per dirigersi verso Ostia Allora oggi è stato un po' di Sì, è la fine, siamo lavandosi bene. Sì, ma non è andata, un po' di più di più, se è giusto! E questo è un po' che mi soppone!